Se puoi, raggiungimi a Rapsdyn, sulla via per Censtochowa. Quello che sto per raccontarti è atroce. Non ho più lacrime, non ho più cuore, non ho più niente. Ricordi la sinagoga di Vadovice? Dal nascondito delle Kluger, riuscivamo a vederla. Cosa è stato? Niente, nonna. Hanno trovato una bomba e l'hanno fatta esplodere. Perché? Perché? Vattene prima che ti trovi, in amore mio. Vattene via, Dadek. Hanno cominciato a portare via tutte le persone vecchie e malate. Perché? Che fanno? Dove li portano? Si prenderanno cura di loro. Non lo so. Non ero preparata a una cosa del genere. Perché nessuno si ribella nel resto del mondo. Tutti quelli che tacciono mentre altri vengono uccisi sono complici degli assassini. Io sei che è morto, vero? No. Aveva promesso di scrivermi. Forse ha scritto, ma le sue lettere non mi sono mai arrivate. Mi dai un bacio, per favore? Stringevo visuava tra le mie braccia e non riuscivo più a staccarmi da lei. Avevo paura di vedere i suoi grandi occhi, i suoi bellissimi occhi diventati vuoti. cenere, come un giardino bruciato. Quando sono cominciate le deportazioni nei campi di Osvianzime e Belzec, la Gestapo ha trovato le Kluger. Sono arrivata da loro con Tadek proprio quel giorno. No! 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 No!